Vuoi fare karate per rimetterti in forma? Amico mio o amica mia, stai totalmente buttando via il tuo tempo! Non farlo! No, 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 no. E Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed è il momento di iniziare una nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate, annunciato anche in pompa magna dalle campane del Duomo di Alessandria che hanno deciso di tenermi, di tenerci compagnia. E oggi parliamo di karate e fitness, diciamo così, di karate e rimettersi in forma. Perché c'è questa convinzione? Vi hanno convinto che se vi volete rimettere in forma il karate sia un'ottima alternativa. E invece... No, 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 no. Buongiorno maestro Miyagi! E invece no, è un po' una boiata amici miei. Non è così, ok? Non è così. Il karate non vi aiuta a rimettervi in forma. Toglietevelo dalla testa. E adesso vi spiego il perché. Il karate, massimo, diciamo che il miglioramento della forma fisica è una conseguenza. Ma se il vostro obiettivo è rimettervi in forma, per favore non venite al dojo perché ci fate perdere tempo. No, non ci fate perdere tempo. Ma non riuscirete ad ottenere i risultati che vorrete. E non avrete la giusta motivazione per praticare e studiare karate. Allora, perché intanto cerchiamo di mettere qualche puntino sulla I? Perché si sta iniziando a credere che il karate vi aiuti a rimettervi in forma sia una valida alternativa alla palestra? Perché è sempre il solito problema che, ragazzi miei, noi dobbiamo tirar su la saracinesca del dojo. Dobbiamo avere gente che viene ai nostri corsi. E ad oggi la concorrenza è spietata, veramente, fra tutte le varie attività, fra arti marziali, difesa personale, fitness e tutte le cose che vengono fuori ogni giorno. E via dicendo. E quindi bisogna riuscire a sopravvivere. E cosa si fa per riuscire a sopravvivere? Sbagliando. Si dà a qualunque disciplina qualunque beneficio possibile ed immaginabile per cercare di convincere le persone a venire a provare quella disciplina. Ok? Quindi, cosa ne so, lo zumba, fa dimagrire, tonifica, aumenta la massa magra, aumenta la forza. Karate, appunto, vi fa stare meglio, vi fa perdere peso, vi fa qualunque roba, vi rende anche immuni all'alcol. E chi più ne ha, più ne metta. Temmo che questo non sia esatto. Esatto, grazie maestro per l'assist. Questo non è vero, non esatto. Ok? È un escamotage che si sta usando in maniera impropria per cercare di convincere che alcune discipline hanno dei benefici che non danno, o meglio, che danno in minima parte e solo per riflesso. Facciamo un passo indietro negli anni. Una volta. Ok? Perché si praticava karate? Non perché ci si voleva rimettere in forma, ma perché si voleva praticare karate. C'era certamente un'idea magari associata al karate come disciplina per veri uomini, per uomini duri. E effettivamente una volta gli allenamenti di karate erano pesanti, erano molto pesanti, anche troppo pesanti perché fatti senza cognizione di causa. E il rimettersi in forma, il migliorare la propria forma fisica, il proprio stato di fitness, quindi di efficienza fisica, era una conseguenza. C'è anche da dire che, allora, io ho iniziato nel 94, se non mi ricordo male, già a quell'epoca, cioè a quell'epoca non c'era comunque la, diciamo, cultura, ma non piace chiamarla cultura perché non è una cultura quella che sta venendo veicolata in questi anni. Però non c'era la cultura, il fanatismo per il fitness che c'era ad oggi. O andavi a fare degli sport, quindi calcio, basket, indipendentemente dall'età, eh, calcio, basket, arti marziali, tennis, nuoto, chi più ne ha più ne metta, o andavi in palestra a fare bodybuilding. Appunto, quello era, forse c'era un po' di aerobica, forse iniziavano ad esserci un po' di attività che arrivavano dagli Stati Uniti, ma in realtà non c'era una vera e propria cultura del fitness. Quindi, spesso, chi voleva fare dello sport e non voleva andare in palestra, virava su attività sportive. E il karate era una di queste. All'epoca, gli allenamenti, come ti dicevo prima, erano particolarmente pesanti. Io mi ricordo che c'erano delle azioni di allenamento in cui il maestro partiva dicendo, facciamo, questa sera facciamo potenziamento. In realtà, ad oggi, ripensandoci, si sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Allora, si iniziavano a fare milioni di piegamenti, esercizi di rinforzo, esercizi di controllo del dolore, per imparare a incassare i colpi, rinforzo articolare, rinforzo osseo. E ci si dava le bastonate con gli scinai bastoni, quelli di bambù, del candle, sulle braccia per imparare a incassare bene i colpi, a far bene le parate e gli squat. Si faceva qualunque boiata, diciamo la verità. Qualunque boiata perché non aveva una strutturalità, non aveva una programmazione. C'era veramente questa cosa qui. Stasera facciamo questo, e via. E si faceva. E si faceva indipendentemente dall'età. Io facevo quella roba che avevo 11 anni, perché io ero una testa dura. A 11 anni ho voluto mollare il corso dei bambini per passare a quello degli adulti. avevo la cintura blu, e quindi io facevo lo stesso identico allenamento di tutti gli adulti. Cosa che se proponessi oggi, giustamente, verrei bastonato. Però c'era un miglioramento della forma fisica. Quello è indubbio. Ma era conseguenziale. Era conseguenziale da sta miscellanea che veniva fatto. Ma la nostra forma fisica non era così elevata, non era così ottima. E questo lo dimostra il fatto, adesso che ci penso, che quando il maestro diceva Oggi facciamo corsa. Corsa. Vai piano, Eugenio, perché ero il capofila. Vai piano, perché corriamo per due minuti. Per cinque minuti. E i ragazzi, alle volte io compreso, perché poi io ho iniziato un po' a staccare da alcune situazioni perché mi allenavo da solo. Ma i ragazzi, dopo uno, due o cinque minuti di corsa, e non di corsa a collo, di corsa dentro una palestra, quindi puoi immaginarti, insomma, non era una... Il Kodokan di Alessandra è grande, ma non era una piazza d'armi. Quindi avevano il fiatone e non riuscivano a correre. Capisci bene che la forma fisica, ok? Il VO2max, quindi la nostra capacità di bruciare ossigeno, era bassa, che tra l'altro è un grande fattore di salute. Insomma, la forma fisica non era esattamente delle migliori. Il fiato, diciamo così, faceva cagare. Anche se poi riuscivamo a farlo, il kumite, ok? Le sessioni di tre minuti di kumite le riuscivamo a fare senza alcuna problematica. E perché il karate non è una disciplina utile per rimettersi in forma come si evince dai miei racconti? Beh, intanto, facciamo un attimo una piccola parentesi. Se vuoi dimagrire, devi entrare in guerra, ok? Dimagrire vuol dire entrare in guerra. Entrare in guerra con tutta una serie di meccanismi del tuo corpo che sono stati strutturati perché il tuo organismo non vuole dimagrire. Il tuo organismo non ha alcuna intenzione di dimagrire. Dimagrire significa perdere delle risorse preziose che possono tornare utili in caso di carestia. E il corpo sta cosa non la vuole fare, lo devi obbligare. Quindi devi entrare in guerra. E per riuscire a ottenere questo effetto devi seguire delle metodologie di allenamento altamente specifiche. Magari seguendo un trainer specializzato. Quindi se vuoi dimagrire contatta Valeria di Fitness Rebel che lei è specializzata nell'allenamento per il dimagrivento, per esempio, ma non puoi ottenere quel risultato facendo karate. Ok? Cosa numero uno. Cosa numero due. Tieni conto che solitamente gli amatori, ora stiamo parlando di amatori, hanno quante ore di allenamento? Due ore di allenamento alla settimana? Tre ore di allenamento alla settimana? Giusto? Ok? Bene. Allora, se hanno due o tre ore di allenamento alla settimana in cui giustamente si focalizzano sull'aspetto pratico della disciplina, non abbiamo il tempo alle volte le conoscenze che volendo il tempo ce lo avremmo però non abbiamo il tempo diciamo così per strutturare dei programmi di allenamento realmente profiqui. Ok? E quindi il fattore tempo è una problematica una problematica molto sentita. perché se proprio vogliamo fare i pistini possiamo far mezz'ora di lavoro preparazione etica sulla preparazione fisica ma poi non ne abbiamo più. Ok? E poi c'è ci sono delle criticità della disciplina ovvero torniamo al discorso del VO2max Il VO2max è la nostra capacità è la capacità del nostro corpo di bruciare ossigeno. Ok? Quindi nel momento in cui io prendo l'aria all'interno dell'aria c'è una certa quantità di ossigeno ok? è la capacità del mio corpo di bruciare una determinata quantità di ossigeno. Ok? Va bene detta proprio non se mi sentisse Giovanni mi darebbe degli schiaffi però giusto per avere un'idea di massima poi se vuoi capire meglio cos'è il VO2max vattelo a cercare su internet ed è un fattore importante è molto importante da allenare perché? Perché avere un buon VO2max significa avere una buona qualità di vita è uno dei fattori più importanti inerenti alla salute ok? Ora noi con la pratica del karate non andiamo a stimolare l'innalzamento del VO2max non lo facciamo perché? Perché abbiamo o i kyon che sono prevalentemente statici quindi prevalentemente stiamo sul posto è vero facciamo i passi ma poi le gambe non le lavoriamo lavoriamo con le braccia e a ogni conteggio c'è una pausetta andiamo a lavorare i kata che sono delle espressioni di resistenza a breve termine forse qualcosa arriva no dovrebbero essere tutti a breve termine rimaniamo sul breve termine col beneficio del dubbio e poi andiamo a lavorare il kumite ora le prime due non sono attività che ci innalzano il VO2max a meno che l'insegnante non sia così smart da riuscire a strutturare una metodologia intervallata o intermittente però è difficile quindi col kata e col kion il kumite quindi il combattimento non è un metodo che innalza il VO2max perché? perché è una RAA quindi è una repeatability repeat action ability e non è un'attività che innalza il VO2max è un'attività in cui c'è richiesta una grande potenza di recupero e quindi allenandoci solamente con il karate il VO2max difficilmente aumenterà ok? questo è il motivo per cui poi spesso vedi i ragazzi che vanno a correre pratica stupida perché non aiuta o meglio non aiuta in maniera precisa l'innalzamento del VO2max per il tipo di attività che andiamo a fare perché il VO2max è attività dipendente quindi praticamente più vai a correre più il VO2max diventa valido per la corsa ma non è detto che se fai poi due minuti a sacco tu riesca ad avere comunque un VO2max che ti tiene botta però comunque piuttosto che niente le maie più toshed dovremo andare a fare un po' di lavoro in merito a questo argomento qua ma la suma perdi non è questa la base non è questa la sedia per quanto riguarda invece la forza generale anche qui non riusciamo ad avere un innalzamento della forza generale perché? perché tutta l'attività è a vuoto ok? non abbiamo una resistenza e la forza spesso e volentieri noi la sviluppiamo contro una resistenza e qui vi sento già eh ma la forza esplosiva reattiva o la forza esplosiva si lavora a carico naturale quindi senza i pesi sì e no ok? non venitemi a punzecchiare su queste cose qua perché vi mangio in testa sì e no perché è vero che buona parte dei lavori con la forza esplosiva reattiva si fanno a carico naturale ma noi adesso stiamo parlando di fitness stiamo parlando di efficienza motore stiamo parlando di salute di benessere di rimettersi in forma è una persona che vuole rimettersi in forma di avere una buona forza esplosiva reattiva non gliene importa una cipazza va bene ok? non gliene può fregare de meno qual è quell'attività che permette di aumentare la densità ossia di aumentare la resistenza tendinea di fare prevenzione a livello tendineo non è la forza esplosiva reattiva è la forza massima quindi non ci aiuta sotto questo punto di vista ok? perfetto eh? sto tutto chiaro quindi condivide? bene però questo è vero il karate può aiutare a migliorare la propria forma fisica ma non è il suo obiettivo ok? e come può aiutare a migliorare la forma fisica? beh intanto a livello tecnico comunque da dei benefici scusatemi scusami intanto a livello generale da dei benefici comunque perché intanto alzi sedere dalla sedia e stai un paio d'ore a muoverti e quindi già piuttosto che niente come dicevamo prima è meglio piuttosto due aiuta a scaricare lo stress questo può aiutare per il dimagrimento e può aiutare per un benessere generale e poi ovviamente può aiutare quando quando noi andiamo inserire una preparazione atletica specifica in base ai tipi di soggetti che abbiamo quindi in base a soggetti fitness o in base ad agonisti ok perché gli agonisti sono prestanti perché si fanno un bucio di un bucio di quella roba lì 8 ore al giorno e ovvio che loro hanno una preparazione atletica specifica e ovvio che loro devono essere performanti e quindi riescono a dare di più ok e ad ottenere delle modificazioni che noi spesso non riusciamo a ottenere con quelle due o tre ore al giorno non si possono fare miracoli si può fare molto con una preparazione atletica con una preparazione fisica specifica anche per degli amatori quello quello si ok la riprova di quello che sto dicendo comunque è il fatto che è sempre stato così sempre ma adesso ancora di più il livello dei degli amatori il livello degli amatori quando andiamo in giro a fare degli stage o si sostanzialmente degli stage perché siamo amatori e non facciamo gare quindi quando andiamo in giro a fare degli stage ci sono gli stage di tre ore due ore si vede il livello di preparazione fisica degli amatori ok ed è da mettersi le mani nei capelli mi darebbe un dispiacere maestro non lo dica a me e non solo delle persone non giovanissime ok diciamo dei 40 50 60 60 70 che non è giustificabile non è non è giustificabile grazie maestro maestro lei si allena tutt'oggi no non è giustificabile perché comunque ad oggi la scienza del movimento ha dimostrato che dipendentemente dall'età si può stare bene si può fare un sacco di roba e abbiamo questa tara mentale che ah no la persona è anziana e allora non deve più allenarsi ma vedere i ventenni i trentenni i quarantenni ok i diciottenni amatori che non riescono a reggere uno stage di due ore e mezza tre e che arrivano stanchi morti vuol dire che comunque c'è qualcosa che non va ok che il livello di preparazione fisica non è idoneo non è adatto e qua dovremo farci delle domande ma lasciamole un attimo in in sospeso ok quindi in realtà la scelta dipende molto dall'obiettivo ovvero qual è il tuo obiettivo il tuo obiettivo è imparare il karate si ok allora vai a fare karate sereno e vedrai che comunque avrai dei benefici ok il tuo obiettivo è stare meglio in generale a 360 gradi ok va bene vai a fare karate e avrai comunque dei benefici sotto un punto di vista psicofisico ma se il tuo obiettivo è fitness dimagrire aumentare la massa magra quindi aumentare i muscoli cosa ne so essere in tiro per andare in spiaggia a fare il figaccione o la figacciona beh amico o amica mia allora iscriviti in una palestra fatti seguire da un trainer bravo e quello è l'unico modo per ottenere determinati risultati se no il karate non va bene ok perfetto oggi maestro è un po' un po' monote perché è giusto che tu lo sappia scusami perché se no altrimenti tu vai in dojo pensi di ottenere una determinata cosa non la ottieni ci rimani male giustamente e successivamente non non solo te la prendi con quella disciplina ma insomma si crea tutta una serie di cose che non non dà beneficio né a te né a chi babbo ti ha voluto convincere che quella disciplina era utile per quello che volevi ottenere appello agli insegnanti cercate allievi che vogliono imparare karate non cercate di far su cani e porci scusate il termine non perché siate cani e porci ma nel senso di far su qualunque roba per ottenere una cavolo di quota di iscrizione in più giusto perché altrimenti non non ne usciamo più non ne usciamo più avremo sempre le palestre con gente insoddisfatta che non raggiungerà gli obiettivi che noi abbiamo promesso che avrebbe raggiunto che perderà fiducia in noi e nella nostra categoria e soprattutto non riusciremo a formare dei karateka come si deve adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte benissimo grazie ma adesso mi fa sempre piacere che lei abbia la buona parola bene io direi che per questa puntata di karatepedia è tutto ti ricordo che in descrizione del podcast e in descrizione del video puoi trovare tutti i miei contatti qualora tu avessi da farmi delle domande sarò più che contento di risponderti e tutto il materiale gratuito che metto a disposizione dall'accademia online al corsi gratuiti al canale telegram al canale telegram importantissimo il canale telegram perché ogni giorno mando un mini podcast a chi è iscritto di un paio di direi che per oggi è tutto dal maestro Miyagi ok sayonara fantastico e da Eugenio ciao noi ci sentiamo martedì prossimo per la prossima puntata di karatepedia io come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati se hai delle domande da farmi io sono qui trovi i miei contatti sotto non te lo dimenticare ok buona pratica alla prossima ciao trovi altri contenuti gratuiti su